Con 97 nuovi casi salgono a 2.443 i pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo, tra i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 246. I casi più recenti, accertati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.113 tamponi, risultato positivo l'8,7% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 72, su un totale di 1.042 tamponi, 6,9%. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 246 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. 255 sono i guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 77 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti, 319 meno 5 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 43 più 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.580 più 96 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASD. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 25.436 test, di cui 17.877 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 233 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 553 alla ASL Lanciano-Vastocchieti, 1.042 alla ASL di Pescara e 615 alla ASL di Teramo. I 97 casi di oggi si riferiscono 1 alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 54 alla ASL Lanciano-Vastocchieti, 38 alla ASL di Pescara e 4 alla ASL di Teramo. Grazie a tutti!